Se è vero che tutti noi abbiamo a disposizione 24 ore al giorno, è altrettanto vero che ognuno di noi ha una diversa percezione del tempo, ma tutti o quasi abbiamo la stessa sensazione, ovvero che il tempo non basti mai e che le giornate passino unicamente intorno al lavoro e alla gestione della casa e della famiglia, senza riuscire a dedicare tempo a noi stessi e alla nostra crescita personale. Ma se ti dicessi che c'è un momento in cui puoi fare tutto quello che vorresti fare e che non trovi mai il tempo di fare, che sia leggere, fare yoga, meditare, pregare, dipingere, scrivere e che il momento ideale per fare tutto questo è quel frangente di tempo tra la notte e il giorno che prende il nome di morning routine. Sono sicura che ti si spalancherebbe un universo così come lo è stato per me. Voglio quindi condividere con te 5 buone abitudini che ho introdotto nella mia routine del mattino e che mi hanno letteralmente cambiato la vita, facendomi sentire più sana, più forte e più motivata per il resto della giornata. Spero che tu possa trovare in questo video qualche ispirazione per introdurre queste o altre attività che siano in linea con te e con il tuo stile di vita, ma non posso negare che per farlo serva tempo, motivazione e costanza. Non spaventarti però perché provando a introdurre gradualmente un'abitudine alla volta, anche per soli 10 minuti al giorno, anticipando quindi la sveglia anche di soli pochi minuti, potrai cucire su misura la tua morning routine e ritrovare un tempo di qualità per la tua vita. Ma prima di iniziare, se è la prima volta che guardi uno dei miei video, mi presento Ciao, sono Chiara e sono una professional organizer e nel mio canale ti descrivo i modi in cui un professionista dell'organizzazione come me può aiutarti a semplificare e migliorare la tua vita grazie all'organizzazione. Per non perderti quindi tutti i miei video sull'organizzazione, iscriviti subito al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti che trovi proprio qui sotto. Iniziamo con la prima buona abitudine che ho introdotto nella mia routine del mattino ed è fare 30 minuti di attività fisica ogni giorno, che sia andare a correre, fare yoga o seguire un video di workout. È la primissima cosa che faccio appena suona la sveglia perché non ho il tempo di pensare che non ho voglia di farlo o di procrastinare e una volta fatto posso dimenticarmene per il resto della giornata. È l'inegabile energia che dà l'attività fisica al mattino insieme alla convinzione di aver già fatto qualcosa di importante per me stessa. Mi fanno sentire carica e motivata per il resto della giornata. Se ti piacerebbe fare attività fisica al mattino ma senti di non avere abbastanza tempo o abbastanza motivazione per farlo, quello che ti consiglio è di iniziare con soli 10 minuti al giorno. Esistono tantissime app o video, anche gratuiti, su YouTube. E di preparare tutto l'occorrente, quindi scarpe, vestiti e tappetino la sera prima. Infine prova a rendere tutto questo momento piacevole e divertente mettendo della musica e creando se ne hai la possibilità un piccolo angolo in casa dedicato al fitness. Un'altra buona abitudine che ho introdotto nella mia routine del mattino è quella di mangiare frutta fresca a digiuno. E questa abitudine è senza dubbio un tocca sana per il nostro benessere fisico e mentale. Perché la frutta essendo ricca di acqua, vitamine, fibre e sali minerali è in assoluto l'alimento perfetto per dare al nostro organismo la giusta carica per affrontare al meglio la giornata. Soprattutto dopo molte ore di digiuno, quindi quando lo stomaco è nelle condizioni migliori per assorbire tutti i suoi nutrienti. Te vuoi introdurre anche tu questa buona abitudine ma se stai pensando che la mattina non hai mai fame o non hai mai tempo per sederti a mangiare della frutta, la buona notizia è che puoi organizzarti per preparare per esempio un frullato, da bere anche mentre ti prepari per uscire di casa oppure per strada mentre vai in ufficio. Ti basterà organizzare delle scorte di frutta a pezzi da tenere in freezer, come delle rondelle di banana, delle fragole o dei mirtilli e frullarle ancora congelate con un po' di latte vegetale. E in pochi minuti avrai un ottimo frullato super salutare senza dover gestire scarti, sprechi e una lunga preparazione. Nella descrizione di questo video ti lascio i link dei contenitori per freezer, riutilizzabili e lavabili che puoi utilizzare per congelare la frutta e anche dei bicchiere per il tuo ottimo frullato da asporto. Un'altra buona abitudine che ho introdotto nella mia routine del mattino è quella di dedicare un po' di tempo alla lettura ed è un'abitudine che adoro perché ho un ottimo modo per iniziare la giornata sentendosi motivati e ispirati, da spunti e riflessioni che ti accompagnano per il resto della giornata. Personalmente amo leggere durante la colazione, quando c'è silenzio perché ancora il resto della casa dorme. So già che stai pensando di non avere abbastanza tempo per tutto questo, ma ti invito sin da subito a riflettere sul tempo che realmente butti via, facendo scrolling sui social appena alzato oppure posticipando la tua sveglia infinite volte. E se realmente non hai tempo per sederti a leggere un libro, la buona notizia è che puoi leggere ascoltando un audiolibro e puoi farlo mentre ti alleni, mentre fai colazione, mentre ti prepari per uscire di casa oppure per strada mentre vai a lavoro. Se vuoi implementare questa buona abitudine nella tua routine del mattino, quello che ti consiglio è di dedicare inizialmente pochi minuti ed incrementare gradualmente. Scegli un libro che attira la tua attenzione e che ti interessa davvero e una volta acquisita questa abitudine per renderla ancora più efficace ti suggerisco di alternare la lettura di due libri. Uno che nutra la tua mente e uno che nutra la tua anima. Nel primo caso può trattarsi di un saggio su un argomento di tuo interesse, come per esempio l'organizzazione e la crescita personale. Nel secondo caso un romanzo di letteratura classica oppure di narrativa contemporanea. Un'altra buona abitudine che ho introdotto nella mia routine del mattino è quella di scrivere le priorità della giornata. E questa è un'abitudine che ha davvero avuto un impatto enorme sulla mia organizzazione e sulla mia produttività. Senza un'attenta pianificazione delle nostre giornate tendiamo infatti a concentrarci solo su compiti urgenti ma non importanti che spesso ci fanno sentire incredibilmente occupati senza realmente essere efficaci. Proviamo invece a spostare l'attenzione su tutte quelle attività che sono importanti ma non urgenti e farlo più facile di quanto pensi. Il mio consiglio è quindi quello di annotare tutto ciò che devi fare o che desideri fare e di prenderti qualche minuto al mattino per individuare da una a tre priorità, provando ad essere il più realistico e il più dettagliato possibile. Se ti resterà tempo potrai poi andare avanti con il resto dei tuoi compiti ma portando a termine solo quelle priorità potrai dire di aver compiuto un passo importante verso la tua produttività e il successo dei tuoi obiettivi. Un'altra buona abitudine che ho introdotto nella mia routine del mattino è quella di dedicare 15 minuti per svuotare la lavastoviglie, rifare i letti, riordinare la cucina e pulire il bagno. Sembra incredibile che ci voglia così poco tempo per farlo ma il segreto sta proprio nella costanza di questa abitudine perché è uno spazio pulito e in ordine, è uno spazio che si riesce a pulire e rimettere in ordine in pochissimo tempo. Iniziare la giornata con uno spazio pulito e in ordine è un'abitudine che può davvero avere un impatto enorme sul resto della giornata e in particolare sulla nostra lucidità mentale e sulla nostra capacità di concentrarci ed essere produttivi. Quando siamo circondati da un eccesso di oggetti e di disordine tendiamo infatti ad essere meno motivati e più inclini alla procrastinazione e alle distrazioni. Uno spazio pulito e in ordine equivale invece ad una mente lucida e quando la nostra mente è libera dalle distrazioni siamo in grado di concentrarci al meglio e di essere più produttivi. Ma pulire e riordinare al mattino significa anche assicurarsi uno spazio accogliente al nostro ritorno. Quando stanchi dopo la giornata non dovremmo preoccuparci delle faccende domestiche e potremmo finalmente rilassarci e dedicarci alle persone che amiamo. Ecco queste sono le cinque buone abitudini che ho implementato nella mia routine del mattino e che hanno avuto davvero un impatto incredibile sulla mia vita. Mi hanno aiutato a diventare più sana, più consapevole e più produttiva. Spero davvero che tu possa trovare in questo video la motivazione giusta per iniziare se già non lo fai e sfruttare al meglio le tue mattine perché il modo in cui iniziamo la nostra giornata ha un impatto enorme sul resto della nostra vita. Prova quindi a introdurre una o altre attività come queste ma il mio suggerimento è quello di farlo gradualmente, una alla volta e per pochi minuti. Ma la raccomandazione è di rendere questa attività una vera e propria abitudine praticandola con costanza per almeno 30 giorni per poi raddrizzare il tiro e provare a puntare più in alto. Se questo video ti è piaciuto ricordati di lasciare un like e di iscriverti se non l'hai ancora fatto al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti che trovi proprio qui sotto. Cercami anche sul mio profilo Instagram e sulla mia pagina Facebook e i link che trovi nella descrizione a questo video. Io ti ringrazio tantissimo per il tempo che hai voluto dedicarmi e ti aspetto alla prossima. A presto!